che oggi sarei stato nominato da voi socio di maggioranza grazie alla generosa cessione di quote da parte vostra quote che non ho chiesto siete stati voi questo mi avrebbe dato il potere assoluto, lo ammetto ma anche la responsabilità c'è l'onere di far decollare la rete a livello internazionale con nuovi investimenti, nuovi capitali che come di consueto io avrei preso o almeno attirato certo, questo non l'ho deciso è stata una vostra decisione siete voi che l'avete pensato, non io a rivista avete visto come ieri ho acciondato la proposta che mi ha fatto da parte vostra Antonio l'avete visto tutti io invece pensavo di discutere di questo oggi di come compiere questa transizione senza lasciarci dietro roppe vittime parlare di nuovi quadri dirigenziali di stipendi, di aumenti eccetera eccetera e invece mi trovo qui vittima ignara di una sorpresa molto diversa da quella che mi aspettavo una guardia una violenta aggressione verbale che non mi spiego piene di falsità bugie accusi inesistenti tutte subdole e misere che fanno quasi ridere sfruttatore maniolo viene d'accusato di essere un mafiore maiale un ladro un viscito di essere un trafficante uno spacciatore pezzo di merda un traditore un traditore struso tutti voi tutti voi qui tutte queste accuse su di me che così meschinamente avete raccolto nella spazzatura sono come fredde e coltellate che oggi mi sta tanto che fanno male lo ammetto ma sono coltellate superficiali non sono letali tutte queste invenzioni sono costruita d'arte per infangarmi per togliermi di mezzo per uccidermi lo so che fanno male certo ci vorrà un po' di tempo tutto questo questa congiura metterà a rischio il futuro della gente ma ce la farò e sapete che sono in grado di farlo e lo farò brutto metterà